2. E' già scritto Attese che gli aprissero il portone sbattendo le ciglia e intrise di pioggia. Gli altri amici che partecipavano alla riunione erano già entrati. «Sono Arturo», disse al citofono con una strana voce rauca. Salì a piedi le scale fino al primo piano ed eccolo entrare nella porta della casa, che rimaneva aperta fino a quando iniziava la riunione. Parlarono per un poco tra di loro e poi si accinsero ad ascoltare i nastri che contenevano l'insegnamento dei maestri che si erano manifestati in quel cenacolo per quasi 40 anni. Mentre si sedeva, Arturo provò un dolore lacerante che si trasferì all'improvviso dal braccio destro al sinistro, mentre il torace gli sembrò stritolato da una morsa. I presenti videro che la bocca e gli occhi di Arturo erano diventati una maschera di dolore. Il suo cuore diede alcuni sbalzi spasmodici e si fermò. Arturo riprese conoscenza nella sala di rianimazione in ospedale. Gli dissero che aveva avuto una trombosi delle coronarie. Lui fu subito certo che, come dicono i maestri, non era giunta la sua ora, perché il momento della morte è già scritto dalla legge. Grazie. 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 Grazie.